Di fare un ritratto con quella tecnica di una mia foto, ora, io non credo di essere così importante, però me l'ha fatto un importante artista, un amico, e stasera me lo dà. E io vorrevo dividere questa gioia con voi. Chiamerei Alberto Pollo, che è questo amico. Alberto Pollo. Alberto ci spieghi cos'è questa tecnica di pittura, perché ho detto delle fesserie forse. No, no, hai detto bene. È un modo di dipingere, andando a cercare i minimi particolari, da una foto. Uno può pensare perché, se c'è la foto, ebbene è proprio la voglia di stupire chi guarda un disegno del genere, perché non è stata una macchina fotografica, ma è stata la mano dell'uomo a farla. Ecco, questo è... non c'è nessun messaggio, ecco, è solo... No. È solo un esempio di... Sensazione. No, è una... è voler dare una sensazione, ecco, e poi di cercare di tirar fuori quello che si percepisce da quella persona, ecco. Quindi adesso posso tirarlo fuori il mio regalo. Sì, per tirarlo fuori. Io volevo solo dire che questo io ne ho regalato uno anche a Michele. Infatti io l'ho avuto per prima, allora ce l'ho a casa, bellissimo. Adesso vedremo. Perché? Perché? Io e mia moglie veniamo a sentire i loro concerti e loro ogni volta ci danno una gioia immensa. E ho voluto con questa piccola cosa cercare di sdebitarmi in un certo modo. Per questo che ho voluto regalare loro questa cosa. No, me lo dì, me lo dì, adesso me lo c'è. Grazie. Adesso lo apriamo. Lo apriamo. A parte che c'è una custodia importantissima, no? No. Bene, scusate, lo faccio vedere. Io penso di non meritare questa cosa. Guardate che mi aiuta. Grazie a voi. Grazie a voi. Sono poco mosso dalla congiuntivite. E questo signore, questo signore, ah ma le donne si è sposato a giugno dell'anno scorso e c'è una moglie che è una meraviglia. Scusate questo intervento un po' privato, ma ci piace condividere con il pubblico anche le nostre gioie. Grazie. Grazie. Grazie.